Comunque ragazzi, piccolo spoiler, non aspettatevi il video dopo il cosa finale, dopo gli titoli di cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Welcome from my channel. Hello people. Come on game. Let's play. Ah shit, move. Yeah. 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 Thank you. Thank you again. Whoa. I'm fishing. Yeah. 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 Boom. come on fish fishing big fish no no it's a small cool right die die ok okay I should do okay Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Hello. Now go. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.